Salve, buonasera. Abbiamo qui ospite niente meno che José Mourinho. Viva me, buonasera, buonasera, viva me, buonasera. Allora José, perché è venuto alla Dreamer School? Anche lei crede in un futuro migliore per i giovani? Assolutamente no, non mi interessa, non è problema mio. Beh, ci hanno detto che sarà lei ad allenare i color giocolieri. Non sapevamo avesse questa passione per la giocoleria. Beh, però è notorio che mi piace far girare le polle. Puoi anticiparci qualche notizia sulla formazione che scenderà in palco domani sera? Ma assolutamente no, non ci penso nemmeno, io così avvantagero avversari. Scusi, ma quali avversari? Siete tutti della stessa squadra? Sì, ma noi dobbiamo fare la migliore figura. Noi siamo i migliori, io all'anno i migliori. Io sono i migliori, io sono i migliori, io sono i migliori e voi siete tutti i f***i. Abbiamo qua negli studi Frida Giannini, Paolo Rossi. Piacere! Cos'è per lei la moda? Per me la moda è arte, arte con sacrificio, perché oltre al prodotto che noi diamo al cliente, c'è dietro un grande lavoro. Cosa non manca mai nella sua borsetta? La mia borsetta non manca mai sicuramente. Il nuovo mascara della Gucci, extra lunghe e meravigliose. Meraviglioso anche questo. E non basta. E qual è l'abito? Il must, sicuramente che non deve mai mancare nell'armadio di una donna, è sicuramente il classico tubino nero con una scollatura acquarie che evidenzia tutte le forme. Oh! Una delle top manager della Gucci. Come fa a conciliare casa, lavoro e amore? È una cosa molto complicata, ma fortunatamente il mio lavoro si concilia con l'amore, perché l'uomo della mia vita lavora anch'esso alla Gucci e quindi mi comprende quando non so cosa scegliere tra un Rouge 17 e un Rouge 16.